Dopo le quattro sconfitte consecutive, incassate nel corso di un dicembre da dimenticare, la squadra di Ferrazzoli torna sul proprio terreno amico con l'obiettivo di provare a cambiare passo. La Befana, tuttavia, porta in via Stefano Vai, un Ostia Mare, che ha concluso il 2020 in crescendo e che vuole aprire il 2021 nello stesso modo. Benvenuti al Dompino Puglisi, amici di Sport in Oro, per Monte Spaccate d'Ostia Mare. È tempo di derby, è tempo di decima giornata di andata nel girone di Serie D. Si comincia adesso al Dompino Puglisi con Capitano Dastolfo che sventaglia subito cercando la profondità. Poi il pallone che torna nuovamente tra i piedi del portiere che si complica la vita e l'Ostia Mare passa in vantaggio con Claudio De Sosa, pasticcio del portiere del Monte Spaccato. Sulla pressione De Sosa mette il pallone in rete. Il bel gesto anche di Dastolfo che va a tirar su di morale Tassi. Dabascio ad accompagnare, cerca di imbucare, attenzione, Dabascio dentro, tutti a vuoto, spuga dalla parte opposta Silvestro. Silvestro carica col destro, Giannini dice di no. Occhio a Gambale, prova a duettare con Calì, tocco proprio per lui! E il pallone termina largo rispetto alla porta di Giannini. Dastolfo dopo un rimbalzo riesce ad impedire a Catese di partire. Poi da fuori, grandissima conclusione di De Sosa. Stop e tiro col Mancino, davvero molto apprezzabile sotto il profilo stilistico. Va da Nanni, si propongono in due centralmente, sceglie la soluzione profonda. Invece l'attaccante dell'Ostia Mare, De Sosa dopo un rimballo, ma c'è il rigore per un tocco con un braccio. Da parte di Bassini, credo, non ha avuto esitazione alcuna il signor Totaro di Leccia ad indicare immediatamente il dischetto. Pronto a calciare il 10, lo fissa il portiere. Parte Mastropietro, di forza, sotto la traversa e l'Ostia Mare ha raddoppiato al Doppino Puglisi. Ma non c'è altro da aggiungere per questo primo tempo che va in archivio. Si riparte con il Montespaccato che ha operato due cambi. Esiste però Bassini, siamo sempre lì. Ci prova Bassini, Giannini dice di no. Bella conclusione da parte del 21. Ancora il Montespaccato, di forza, sempre con Bassini. Può andare al cross, c'è la deviazione. Calì! Calì! Accorcia le distanze, il Montespaccato. Subito in rete al nuovo esordio, con la maglia del Montespaccato. Aimone Calì, il duca del gol. Si riapre tutto. Bella azione del Montespaccato. Silvestro, poi in scivolata. Mastro Mattei eccedendo però. Espulso. Espulso Mastro Mattei. Intervento piuttosto fuori tempo da parte del centrocampista dell'Ostia Mare. Ostia Mare ha serragliato all'indietro. Catranno in area, stacca Calì! E il pallone finisce in rete! Esordio magico di Aimone Calì, con la maglia del Montespaccato. Pallone nell'angolino alla sinistra di Giannini. E due a due al Dompino Puglisi. Bello il suggerimento in verticale, Bassini in area, attenzione al Montespaccato. Ansini, Giannini, pallone rimane lì. Ancora Montespaccato fa giocare l'arbitro, attenzione, Gambale! Pallone che termina fuori. Che occasione per il 3 a 2 del Montespaccato. finisce qui in via Stefano Vai, finisce 2 a 2 fra Montespaccato ed Ostia Mare.